Dopo il clamoroso successo dei best seller sulla finanza personale, i soldi fanno la felicità e l'arte della ricchezza, torna in Italia il seminario di successo sugli investimenti immobiliari di Alfio Bardolla, l'unico financial coach italiano. Ciao sono Alfio Bardolla e da oggi grazie ai miei corsi è possibile diventare imprenditore di se stessi con il mio seminario investire in immobili. Con il mio team di esperti potrai scoprire come è possibile il romano attivo farlo nei weekend, nel tempo libero e con pochissimi capitali. Mai come oggi è il momento migliore per acquistare e vendere immobili se sai come fare. Al corso imparerai come è possibile individuare immobili con almeno il 30 per cento di sconto, come frazionare e ristrutturare, come acquistare le aste giudiziarie e soprattutto come ottenere le migliori condizioni da agenzie immobiliari e notari. Chiama ora il numero verde 800 910 522 e parla con i nostri consulenti formativi. Visita il sito www.alfiobardolla.com 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 www.alfiobardolla.com